salve amici di youtube oggi vi faccio vedere un video guardate bene questa era una fungaia si trovava tantissimi funghi di ogni genere guardate l'essere umano cosa fa guardate bene devastazione totale io ci ho impiegato anni per trovare questa fungaia anni e ora hanno distrutto tutto tutto per il dio denaro legname 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 guardate lo scempio questo è lo scempio e piano piano arriveranno anche di sotto questa è la partenza arriveranno a valle di sotto continueranno e poi dalla parte di qua a monte proseguiranno anche di sotto